Affermazioni chiare e nette per il centro Porsche, Firenze e Versiglia, Hockey Forte dei Marmi e Hockey Trissino. I rosso-blu si impongono con la più larga vittoria della stagione, firmando un clamoroso 16-0 contro il rinnovato Breganze. Ma ancora troppo un cantiere aperto per impensierire un determinato team in testa alla classifica. Allenato dall'ex Roberto Crudeli, venuto via da Vercelli insieme al portiere Verona, anche lui ex Forte dei Marmi alla vigilia della partita dopo il ritiro dal campionato dei piemontesi. Tre reti per Ambroso che vola a 33 in campionato, imitato da Compagni e Rossi, due gol per Gil Cinquini e Tornera e singola per Ipinazzar. Giovedì i rosso-blu saranno impegnati per la Champions League con il deportivo Liseo. Il Trissino ha superato il giovinazzo 5-0 e in Champions se la vedrà con il Tomar. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.